Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Viking Games TV. Oggi vi porto un po' di curiosità e quattro nuovi cambiamenti che arriveranno nella Battle of Zier, ossia il matatoio di Zier. Il nuovo evento che è stato presentato da ieri, siccome ha dei problemini, diciamo che Blizzard se ne accorta immediatamente e cercherà di risolverli al più presto. Ma prima di iniziare lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notificazioni così rimarrete sempre aggiornati con nuovi video, build, news e molto altro ancora. Ed ora andiamo al video. Signori, Abba Toeir of Zier, o matatoio di Zier, è arrivato ma diciamo che non ha affatto felice i giocatori. Siccome la difficoltà è troppo alta, ci sono alcune abilità presenti all'interno dei dungeon che si possono fare che praticamente rendono alcune build inviabili. Le abilità che intendo sono le abilità dei mostri elite che praticamente inviabilizzano determinate build all'interno del gioco. Inoltre il danno dei mostri sono estremamente alti, ciò vuol dire che anche con una freccia da una di quelle balestre puoi esplodere e tra l'altro anche con le esplosioni che capitano puoi andare dal 100% di vita a zero con un solo colpo. Quindi diciamo che il feedback è arrivato immediatamente con migliaia e migliaia di persone che si lamentavano. tra l'altro anche sul canale ho ricevuto parecchi messaggi di persone che non riescono assolutamente a farli, né dal livello 1, quantomeno quelli dopo. Quindi capite bene che la situazione è un po' complessa. Hanno creato un evento talmente difficile che diciamo che anziché essere amato è odiato dai players. Quindi vediamo un po' questi cambiamenti che cosa ci portano. Innanzitutto riducono il 20% del danno dei nemici all'interno dei dungeon dal tier 1 al 25, quindi sappiate che probabilmente non esploderete con una freccia di una balestra oppure con un'esplosione a cavolo in mezzo al fight, ma vi porterà sicuramente a un 10% o 20% di vita. Lì bisognerà effettivamente vedere poi all'interno dei dungeon come funzionerà. Innanzitutto hanno tolto alcune abilità dell'elite o comunque non dall'elite ma dai guardiani che trovi alla fine del dungeon, che sono quei tre che trovi alla fine, hanno tolto Sanguisuga, che è quell'abilità che gli permette di recuperare punti vita, quindi rendendo a volte il mostro impossibile da uccidere, e hanno tolto anche quella bolla che evitano che i proiettili passino attraverso. Quella lì infatti è un'abilità estremamente rotta, siccome i negromanti che hanno l'abilità di punta ed ossa e il mago con l'abilità di lightning bolt, capite anche voi che praticamente vengono annullate come build e non riescono effettivamente a completare i diversi dungeon. Diciamo che la gente non si è molto, come posso dire, trattenuta nei commenti, evento un po' controverso. E inoltre l'ultima modifica che hanno apportato all'interno dei dungeon è l'esperienza dei glifi, siccome ci vogliono adesso, come adesso a quanto ho capito 300 ore per riuscire a portare il glifo a livello massimo, hanno diciamo ridotto la necessità di punti esperienza, aumentando i punti esperienza che guadagna alla fine di ogni dungeon che dovete andare a fare. Quindi signori, questi cambiamenti verranno apportati il prima possibile, se non mi sbaglio dovrebbe essere entro oggi massimo, entro domani, ma a quanto ho capito dovrebbe arrivare già da oggi, giorno 8 dicembre. Quindi andate magari a scaricare questa nuova patch di aggiornamento e magari provatelo per vedere se effettivamente adesso riuscite ad affrontare i dungeon in maniera più simpatica e più facile. Inoltre c'è stato anche un altro cambiamento che non ho detto, che da livello 1 a livello 8 i mostri hanno anche meno vita e causano meno danno. Quindi provateli e vediamo cosa riusciamo a combinare adesso con l'Abbatori of Zier. Vi ringrazio ancora di essere rimasti fino a qui. Se questo video vi è piaciuto lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, così rimarrete sempre aggiornati con nuovi video, build e news e molto alto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!